Ho visto che il sindaco Pisapia ha dichiarato che è tutto a posto, io sinceramente penso che qualche chiarimento in più ci voglia, penso che ci debbano essere maggiori elementi di garanzia, perché non vorrei che ci svegliassimo una mattina tra qualche settimana e scurtissimo che le cose non andavano bene come si diceva, quindi sinceramente non sono rimasto molto soddisfatto dal confronto di ieri, mi aspettavo qualcosa di più da sala in termini proprio di trasparenza nei bilanci. Per quello che riguarda il futuro dell'area io non sono per niente soddisfatto, credo che non ci sia un processo trasparente di decisione sul futuro del dopo Expo, credo che ci debba essere una sede politica in cui governo, comune, regione, società chiaramente alla luce del sole discutono di quello che deve essere il dopo Expo, un'occasione troppo bella e troppo importante e non possiamo sprecarlo.